Rignala quiete dopo la tempesta in Casavellino, la calma però è apparente perché come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti e quelle dette alle due parti in causa hanno lasciato il segno. Il botte risposta piccato tra presidente ed allenatore si è risolto ieri con una stretta di mano. Esagerato parlare dunque di pace fatta è più un armistizio in attesa di un confronto che possa definitivamente mettere una pietra sopra a questa spiacevole pagina d'inizio campionato. Da un lato Novellino continuerà ad allenare e mettere in campo la squadra che ritiene opportuna alla luce le 400 panchine, 7 campionati vinti in cadetteria proprio per mettere in chiaro ancora una volta se ce ne fosse bisogno che la Serie B per lui ha pochi segreti. Dall'altro Taccone continuerà a vestire i panni di presidente tifoso che giustamente pretende dei risultati alla luce e alla rosa allestita ma con l'accortezza di non lasciarsi prendere la mano davanti ad una telecamera. Insomma i due Walter hanno dato dimostrazione di avere due caratteri forti e in quella stretta di mano fatta nel chiuso di uno spogliatoio hanno racchiuso una tregua ed implicitamente come se abbiano firmato un tacito accordo nel quale si impegnano a tenere a freno lingua ed animo per il bene dell'Avellino. Anche perché non dimentichiamo che anche lo stesso Novellino in estate aveva usato il mezzo stampa per far arrivare un messaggio forte e chiaro alla società quando attendiva rinforzi dal mercato. Il tecnico è stato accontentato, gli acquisti sono arrivati ed ora sa lui forgiare la squadra per ottenere i risultati che attende il presidente. L'armistizio quindi è stato firmato ma la tregua fino a quando reggerà primo banco di prova sulla tenuta di quella stretta di mano sabato nella sfida con il Foggia.